UNIVERSITO UNIVERSITO Ho visto degli dèi volare. Ho visto uomini costruire armi inimmaginabili. Ho visto alieni cadere dal cielo. Questo arriva da Marte, non lo è così. Ma non ho mai visto niente come questo. Quanto ancora nascondi? Siamo a casa. Figlio mio, è il tuo momento. Tu puoi decidere che tipo di re vorrai essere. Non fermarti. Io non mi fermo mai. È tutta la vita che aspetto. Il mondo ripartirà da zero. Brucerà tutto! Quello che succederà ora Determinerà quello che succederà Al resto del mondo. Non scenderebbe La Revoluzione Non diventare più a casa, ragazzi. Non diventare più a prendere, non diventare più a mano e salire. Puoi andare a fare sempre! La Revoluzione non sarà televised. Divertiamoci! Grazie a tutti.